Oh wow, ma che cos'è tutto questo casino? Che cosa sono tutti questi pacchettini? Vanessa, ma tu ne fai qualcosa? Sinceramente no, non ne so proprio niente, ma sono così emozionata perché vedo tantissimi animali e io adoro gli animali. E dove sarebbero questi animali? Scusa, ma sono qui, guarda, qui c'è il ranocchio, che carino. Allora ho capito, è qualcosa che è arrivata e che dobbiamo unboxare. Allora chiamiamo subito la nostra Jade. Sì, evviva, adoro gli unboxing. Wow, che bello, finalmente sono arrivati. Wow, phone, sono così emozionata. Ciao Jade's Family, benvenuti in un nuovo video. Oggi c'è un nuovo unboxing. Vi erano mancati i miei unboxing qui sul canale di Jade's World? Sicuramente, dai. Qui, infatti, come ha detto Alice, c'è veramente un macello perché non si capisce niente. Ve lo faccio vedere sotto un'altra prospettiva. Ecco, ci sono arrivati tutti questi wow phone dalla Orbex e sono tanto carini, guardate. Questo qui è un maialino e invece qui c'è un gattino e costano 3,99 euro in edicola. Ci sono tutti questi. Questo qui è rosa, poi c'è questo qui che è un unicorno, mentre qui c'è un ippopotamo, è davvero carinissimo. Ma che cosa sono questi wow phone? Questi wow phone praticamente servono per coprire, diciamo, fare come una specie di involucro caricatore del telefono e sono compatibili a tutti i telefoni, non soltanto questo qui che è dell'iPhone, ma anche a quelli del Samsung, tutti i tipi di caricatori praticamente. Ma adesso vi farò vedere bene come funziona. Serve per renderlo più rigido e per evitare che si spezzi, soprattutto qui, perché è facile che si rompa, soprattutto in questo punto. Questo wow phone ve lo rende più forte, più rigido e vi abbellisce anche appunto il filo, il cavo. Adesso vi farò vedere subito come funziona. Prendo uno che io poi andrò appunto ad utilizzare e che cosa vado ad utilizzare? Ovviamente questo verde, perché il verde è il mio colore preferito. C'è la ranocchia che è tanto carina. Allora adesso apro subito così ve lo faccio vedere. Oh che carina, no? Dai, ma è un amore. Ecco, io non amo particolarmente le rane, non sono il mio animale preferito, però questa qui è molto carina. Guardate, sembra che sto per... sembra un missile. Troppo carina. Però questa vi farò vedere dopo qual è la sua utilità. Anche di questo vi farò vedere l'utilità dopo. Ma quanto è carina. Adoro gli animali, adoro gli animali. Oh, e le ranocchie sono le mie preferite. Che bello, è un unboxing stupendo. Invece non mi gato per niente. A me piacciono di più gli slime oppure gli squishy. Queste cose, boh, non mi piaccio. Dai, per Alice facci compagnia lo stesso. Adesso ti faccio vedere, vi faccio vedere, vi faccio vedere come funziona. Allora, basta inserire qui all'inizio proprio del cavo e andare a arrotolare, a girare così per tutto il filo. Guardate, in questo modo. Così. Io ve lo farò vedere a lavoro ultimato. Ed ecco finito tutto. Guardate, ragazzi, ecco qui come è venuto il mio cavo. Guardate. È di questo bel verde. Ovviamente la parte finale qui è avanzato questo, ma che lo andrete poi semplicemente a tagliare con delle forbici. Ecco, così è avanzato solo questo. Questo. Allora, questo è così che si presenta il mio cavo. Guardate, è bellissimo questo verde veramente acceso. Mi piace tantissimo. E inoltre ho notato che con questo wow phone il mio cavo è diventato più rigido, appunto. Cioè, te lo protegge tantissimo. Ecco, adesso andremo a vedere a che cosa ci serve questa ranocchia. Guardate, se noi arrotoliamo così il nostro cavo, questo ci servirà per tenerlo fermo. Ecco, tiriamo così la stringhetta in questo modo. E voilà! Ce lo possiamo portare sempre con noi nella borsa, oppure quando viaggiamo ce lo portiamo in viaggio. Wow, è veramente bellissimo. È stupendo, mi piace tantissimo. E questa nuova idea della Orbix è veramente sensazionale. E adesso faccio vedere a che cosa serve questa ranocchia. Dai, che siamo tutti curiosi. Hai ragione, Alice. Ecco, andiamo a togliere questo. Ecco, questa ranocchia serve. Per fare un effetto si mette in questo punto qui, si apre, si inserisce in questo modo. E voilà! Ecco, fa l'effetto come se stesse mangiando il cavo. È veramente un'idea originalissima ed è molto, molto divertente. Anche sta mangiando il cavetto? Carina! L'adoro! È bellissima! Ed ecco qui tutto il cavo completato. È bellissimo. Te lo abbellisce, te lo protegge, te lo rende più rigido. Adesso però vediamo tutti gli altri. Allora, c'è questo qui, di questo celeste, bellissimo. Mi piace tanto, con un fiore. E qui c'è un topolino. Che amore! Poi c'è questo qui che vi ho fatto vedere prima, che c'è l'unicorno, è l'ippopotamo ed è viola. Poi c'è questo arancione con nemo ed è bellissimo, con un arcobaleno. È tanto, tanto... Sembra un po' estivo e anche mette tanta allegria. Poi c'è questo tutto bianco, infatti io ero indecisa. Tra questo e quello verde, perché mi piace tantissimo il cagnolino. E qui c'è un... Cos'è? Tipo un orso? Un orso acchiotto? Un orso? Non capisco. Guardate, sta qua, vabbè. Avete capito? Poi c'è questo qui, giallo, con rappresentato questo mostriciotto, lo sembra, non riesco a capire. E qui c'è... Che cos'è? Che cosa sei? Un... Non lo so. Ditemi voi se l'avete capito. Questo di questo verde acido, diciamo, con una stella e una tartaruga bellissimo. Poi c'è questo rosa col gattino e il maialino, un amore proprio. Poi c'è questo veramente bellissimo, stile Halloween, con questo gatto nero e la balena. Lo dovevo mettere, infatti, perché siamo quasi ad Halloween, è il mese di Halloween, però la balena non mi piaceva, quindi ho preferito il verde. Poi c'è questo giallo con la zampa del cagnolino e il cagnolino, che è stupendo. E infine c'è questo qui, sempre con il maialino e qua c'è un gattino, sì, di questo qui rosa. Troppo dolce. Ah, quello di prima non era un maialino, era un ippopotamo rosa, sempre. Questi qui sono tutti quanti i nostri wow phone. È un'idea fantastica, li trovate a 3,99€ in edicola. Fatemi sapere che cosa ne pensate e se li avete acquistati, fatemi sapere quale avete acquistato. Cliccate qui per iscrivervi al canale e qui per vedere i video che vi siete persi. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!